Per aprire il cofano, tirare la leva nella parte inferiore sinistra del cruscotto. Dopo aver aperto il cofano, con il contatto disinserito e il motore freddo, è possibile accedere al vano motore per rabboccare, al vano liquido lavavetro del parabrezza, del liquido di raffreddamento, dell'olio motore e del liquido dei freni. La batteria non richiede alcuna manutenzione.